Proseguono le rassegne delle opere di Arturo Faiella. Faiella ha aggiunto nuove opere alle rassegne precedenti. Oggi ci sembra più impegnato nel bianco e nero, ma ancora vediamo opere con figure femminili, colori vivaci e brillanti. Faiella appare un artista molto produttivo ed impegnato in una costante ricerca. Grazie ai colori, all'assortimento del quotidiano, in Faiella assistiamo al fiorire di un'arte popolare dove gli elementi sulla tela vengono isolati, sovradimensionati, trasfigurati, cambiati, esagerati nella loro valenza simbolica e interpretativa in un continuo gioco di allusioni. Chi guarda le sue opere, lungi dall'essere un passivo testimone di una bellezza prestabilita, risulta partecipe dell'opera in una personale visione di messaggi e di allegorie. Un mondo tutto sommato costruito dagli innumerevoli prodotti dell'era consumistica commerciale, figlia naturale della propaganda e dei mezzi di comunicazione di massa. Come sempre Faiella è affiancato da giovani impegnati che apprezzano la sua arte, questa volta si tratta di Francesco e Nico. Affianco a me si sono schierate delle persone veramente buone, affabili e che mi vogliono bene, per cui io di loro comunque in certo modo non ne posso fare a meno. e li ringrazio pubblicamente, ma è sempre un ringraziare ogni volta che io faccio qualcosa. Loro si prestano in qualsiasi modo e maniera. Sia Nico che Francesco Petrilli, con Paolo Ricciol, sono i super artisti come me di cui io ne ho bisogno quasi ogni giorno. Per quale motivo avete ospitato i quadri del maestro Arturo Paiella? A prescindere da una grande stima che ho per Arturo, soprattutto perché la sua opera mi risulta interessante, è un piacere poi come al solito inaugurare e iniziare una nuova vita, una nuova attività, aggiungere il colore, aggiungere le sensazioni in questo locale. Io di Nico Ducci so poco, ma è un grande stimatore del mio lavoro. Ha condiviso già in passato le mie opere ed è stato uno di quei critici in cui mi definì un Amedeo Modigliani post-moderno, con un vento selvaggio che mi attraversa nel cuore, credo. Per cui per me è stato veramente un piacere accettare il suo invito.